Tavkar Tavkar è un'installazione, il cui nome è un acronimo, vuol dire The Artist for Marinoas Vanda, l'artista una volta conosciuto come Vanda. Si occupa di alterità, cioè l'alterità è questa pianta che è qualcosa di molto diverso dall'uomo, dall'animale, con la quale si cerca di stabilire un rapporto comunicativo. Cosa fa questa installazione? La pianta emette un segnale elettrico che viene utilizzato per andare a comporre in tempo reale una musica elettronica. L'installazione funziona in questo modo. Una scheda che funge da psicogalvanometro, rileva le attività galvanometriche, quindi le bassissime attività elettriche, di un corpo, in questo caso di un corpo vegetale. Ipotizzando che questa attività galvanometrica sia un output dell'attività di vitale della pianta, questo segnale viene preso e reso discreto. Poi passa a Arduino, dove gira MaxMSP, che è un programma che permette di discretizzare questo segnale, a cui vengono allocati dei suoni che stanno nella RAM di un minimac. Questi suoni poi vengono ricomposti tutti insieme, praticamente, dall'attività della pianta e emessi dalle casse. In questo modo noi iniziamo a sentire una musica elettronica che ci rappresenta la vita della pianta, ce la fa sentire, e poi varia, varia nel tempo. Dopo un po' iniziamo a riconoscere che ci sono delle irregolarità in funzione di stati fisiologici della pianta, in modo che noi iniziamo a ipotizzare una vera e propria comunicazione. Grazie a tutti.